Vedremo in base, il problema serio è una questione, perché il primo anno noi l'abbiamo accertato perché era gratuito, quindi chi si offre in maniera gratuita è ben accorto anche come dirigente. Tutto il caos su Lombardo è un dirigente a costo zero. Il problema serio che oggi ho chiamato anche il presidente, il delegato di Fassino, che è sindaco di Ascoli, il delegato per quanto concerne i rapporti con il ministro dell'Economia e delle Finanze, l'amico, aiutatemi, come si chiama? Castelli, Guido Castelli. Sono preoccupatissimo come mi ha rappresentato la sua preoccupazione dell'area finanziaria tutto di Cesare, che quest'anno il fondo di solidarietà vede il Comune di Foggia 5 milioni, abbiamo sottratto al Comune di Foggia 5 milioni più 1 milione e mezzo di mancati trasferimenti, o diciamo che sono trattenute le nostre somme che noi abbiamo trasferito, di 6 milioni e mezzo, 1 e mezzo, quindi anche questo va considerato nel rapporto con Prascio. La situazione economica ci conserve a soddisfare le sue richieste? Non lo so, io questo non sono in grado di dirlo. C'è da parte mia tutta la volontà di continuare in grado di voto, però è un problema di carattere connesso.